Sio Stok ciao a tutti, oggi voglio parlare della rivolta degli Emirati che ormai a quest'ora tutti conoscerete che si è scatenata questa notte ad Agrigento in Sicilia, però prima vorrei ringraziare di cuore per la nuova donazione Orlando che ha scritto un messaggio più che meritare, quindi veramente lo ringrazio. Ora voglio partire dal succo della questione, 65 migranti, cioè arrivati clandestinamente soprattutto tunisini positivi al covid hanno rifiutato la quarantena nel centro villaggio Mosè di Agrigento, alle ore 23 di ieri sera scatta la protesta, vetri infranti, lancio verso i poliziotti sia di estintori che di pietre che di materassi incendiati come vedrete nel video, tre agenti feriti e alcuni, tra virgolette, ospiti come piace chiamarli in Italia, in fuga e quindi potenziale veicolo di contagio. Poi voglio fare delle considerazioni su questa vicenda, lo stesso governo globalista, immigrazionista, progressista, europeista e chi più ne ha più ne metta, quello del decreto immigrazione che scalza e modifica radicalmente i decreti sicurezza di Salvini, quel governo dell'antirazzismo, della lotta all'odio, dell'umanità di Zingaretti, delle proteste per la, delle proposte meglio, per la cittadinanza tra virgolette facile e non come vista come un fatto di sangue, lo ius sanguinis ma come ius soli, ius culture. Il governo che mette l'obbligo tramite dpcm con lo stato di emergenza della mascherina anche all'aperto impone multe a chi non la indossa. C'erano più poliziotti, tra parentesi, a Napoli per quella donna senza mascherina che in questo caso, che in questo centro d'accoglienza. Non so se l'avete visto quel video. Lo stesso governo Conte permette il caos delle fughe, delle rivolte dei clandestini, incendi, aggressioni agli agenti e tra parentesi clandestini mantenuti in queste strutture con i soldi anche pubblici evidentemente, no? Le regole, la legalità valgono solo per i fessi in Italia, per i cittadini onesti, che cosa vale? Perché ci sono due pesi e due misure? Ma ormai con questo governo non dobbiamo più stupirci. PD e 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, sanno usare il pugno di ferro, almeno a parole questo teoricamente, solo per quella che molti chiamano dittatura sanitaria evidentemente. Parlano di obbligo morale, ho sentito oggi. Gli stessi che attribuiscono solo alla destra l'autoritarismo, che accusano a parole l'autoritarismo. La dittatura sta in Ungheria, vero? Quella del governaccio di Orban, che non ha mai fatto un lockdown, un coprifuoco, che non ha mai messo l'obbligo di mascherina all'aperto. Scordatevelo qui in Ungheria. E poi dimenticano questi signori i regimi autoritari come quello di Stalin, perché non era solo un fatto di destra e non è, ma è anche un fatto di estrema sinistra. La maggioranza degli elettori italiani sta ancora con chi vuole l'accoglienza, cioè il suicidio etnico graduale dei popoli europei, e dalla parte della illegalità legalizzata?